Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, al nord, tempo uggioso con deboli piogge. Al centro, schiarite alternate a nubi sparse. Al sud, soleggiato ma con nubi sparse. In serata, al nord, cieli grigi con piogge temporali. Al centro, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Al sud, soleggiato ma con nubi sparse. Previsioni per domani, al mattino, al nord, del tempo con cieli sereni. Al centro, nubi irregolari con locali acquazzoni. Al sud, nubi irregolari con locali acquazzoni. Nel pomeriggio, al nord, del tempo con cieli sereni. Al centro, soleggiato ma con nubi sparse. Al sud, soleggiato ma con nubi sparse.